Preciso come un orologio svizzero è arrivato il nuovo record alle tips, 63 kg oltre il peso corporeo. È incredibile come nel giro di solamente 4 mesi sono riuscito a migliorare 10 kg sul mio massimale, dato che il mio primo test massimale era stato di 53 kg e il secondo, appena due mesi fa, di 58 kg. Ancora una volta devo dire che non sono soddisfatto al 100% per quanto riguarda la tecnica perché ancora tendo a non farle profonde abbastanza, per cui continuerò a lavorarci. Ad ogni modo sono partito con una tripla con 40,5 kg, la prima ripetizione singola l'ho fatta con 53 kg ed è andata su perfettamente. La seconda singola è stato il mio primo record della giornata con 60,5 kg. Anche questa è andata su molto bene, sono stato veramente contento di come è salita velocemente, mentre invece la singola successiva, quella del record da 63 kg, è salita su veramente veramente a fatica, ho faticato veramente tantissimo. È stata una ripetizione veramente combattuta, dove ad un certo punto dell'alzata stavo anche mollando, sembrava che non ce l'avrei fatta e invece non ho mollato e quindi la ripetizione sono riuscito a completarla. Ripeto, tecnicamente non sono un granché, ci dovrò ancora lavorare nel tempo, ma comunque per ora sono contentissimo così, perché è chiaro ed evidente che sono migliorato tantissimo, sono molto più forte rispetto a prima, quindi adesso posso finalmente focalizzarmi sull'aspetto fisico piuttosto che sulla forza. Per questo motivo adesso posso anche cominciare con i digiuni, modificherò leggermente l'alimentazione per fare in modo di arrivare entro l'estate alla migliore forma fisica di tutta la mia vita. Detto questo, a fine allenamento mi sono anche pesato, il mio peso corporeo attuale è di 72,2 kg e poi dopo l'allenamento, visto che le persone mi chiedono sempre che cosa mangio, ho mangiato due costate di manzo con dei pezzettini di grasso aggiuntivo. Grazie a tutti.